Oggi è difficile orientarsi e trovare informazioni sui servizi. Migrantibus è un sportello che si sposta e ti raggiunge nel posto in cui vivi. Troverai delle persone pronte ad ascoltare i tuoi bisogni a cercare insieme a te delle soluzioni. Le operatrici di Migrantibus ti forniscono assistenza per tutti i problemi legati al permesso di soggiorno. Offrendo aiuto anche nella richiesta per il ricongiungimento familiare e per ottenere la cittadinanza italiana. Il servizio Migrantibus ti aiuta a trovare lavoro come assistenza familiare, contribuendo a sostenere gli anziani e chi in questo momento ha maggiormente bisogno. Alla crescente domanda di cura delle persone non pienamente autosufficienti, lo sportello risponde individuando l'assistente familiare più adatta alle tue esigenze. Migrantibus è uno sportello itinerante che si pone come punto di incontro tra immigrati e famiglie e contribuisce alla ricostruzione dei rapporti sociali nelle comunità aquilane. Anche noi possiamo essere i protagonisti attivi della rinascita aquilana. Rivolgiti a Migrantibus. È qui per te. Rivolgiti a Migrantibus. È qui per te. Rivolgiti a Migrantibus. È qui per te.